Sono in via Biceglie, nella parte alta, e vedete il ponte di 20 tonnellate che è stato ripristinato anche in tempo di record. I lavori sono finiti molto prima di quelli che si immaginava, bisognava ultimarli più o meno per l'alba tra domenica e lunedì, e invece già la strada è ritornata perfettamente agibile, quindi un po' di disagi di questi giorni si sono conclusi. Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato, che hanno avuto tanta pazienza, che siccome ringrazio tutti coloro che hanno operato su questa arteria, è importante questo è il punto nevralgico del lavoro di interramento, anche perché sul ponte il treno passerà regolarmente, quindi questa è la parte in cui poi dalla trincea il treno fuoriesce e riprende in altezza la sua corsa, la sua marcia. La città in questi due giorni, questo giorno e mezzo, è stata abbastanza bloccata dal punto di vista della viabilità, avevamo avvisato per tempo, avevamo chiesto collaborazione, sono lavori di impatto non indifferente, però anche questa è fatta. Via Biceglie è di nuovo regolarmente percorsa in entrata e in uscita. Andiamo avanti, buonanotte e buona settimana.